10 auto distrutte dalle fiamme per un valore di circa 35.000 euro e il danno provocato dall'incendio che ha interessato il piazzale esterno dell'autosalone classe auto in via Brindisi nella zona artigianale di Francavilla Fontana di proprietà del 47enne benvenuto Cosimo Capuano che lo gestisce insieme ai suoi familiari. Erano appena trascorse le 2.30 della notte quando una persona che attraversava via Brindisi ha notato il fuoco e ha chiamato i carabinieri di Francavilla Fontana e i vigili del fuoco. Le operazioni dei pompieri giunti sul posto poco dopo hanno richiesto circa tre ore di intervento prima di spegnere le fiamme che fortunatamente non hanno raggiunto la parte interna ma sono state circoscritte all'area esterna che ha comunque provocato dei danni alle utilitarie che erano parcheggiate nel piazzale. Risparmiato quindi il capannone. Sul posto gli investigatori non hanno riscontrato serrature scassidate o tracce di liquido infiammabile che possano confermare al 100% che si tratti di un incendio doloso ma dalla propagazione dello stesso l'ipotesi maggiore collegherebbe comunque ad un'azione forzata. Le indagini sono aperte a 360 gradi e coinvolgerebbero anche l'ambiente della malavita locale.